amici fratelli sorelle pace del signore e buona giornata a tutti quanti voi dio vi benedica gloria signore per questo nuovo giorno oggi 8 marzo e vogliamo leggere quanto troviamo scritto nella benedetta parola di dio mi invito ad aprire la vostra bibbia nel vangelo di luca e leggere insieme a me al capitolo 11 il verso 21 e il verso 22 dove troviamo scritto che quando l'uomo forte benermato guarda l'ingresso della sua casa ciò che egli possiede al sicuro ma quando uno più forte di lui sopraggiunge lo vince gli toglie tutta l'armatura nella quale confidava e ne divide il bottino è una metafora una figura che ben illustra la vittoria di cristo su satana egli satana e l'uomo forte cristo è l'uomo più forte e la parola di dio ci insegna e lo leggiamo in ebrei al capitolo 2 al verso 14 che satana aveva il potere sulla morte o della morte perché egli ne è la causa in quando introducendo il peccato nel mondo ha introdotto anche la morte ma alla croce quando cristo diede la sua vita e gridò come leggiamo nelle scritture è compiuto alla croce cristo ottenne la vittoria non solo sul peccato ma anche sulla morte e questo è dimostrato dal fatto che tre giorni dopo essere stato messo dentro una tomba ed essere stato sigillato egli uscì vincitore vintorioso perché la tomba fu trovata ed è tuttora vuota perché il corpo di cristo è risuscitato in quanto non era possibile che gli angosciosi legami della morte trattenessero colui che il santo e quindi su quella croce cristo ha acquistato non solo il diritto che gli uomini che credono in lui possono vedere i loro peccati lavati e nettati ma acquistato anche il diritto che coloro che credono in lui possono risuscitare nei giorni in cui tornerà e risuscitare non più con un corpo di carne e ossa che porta sofferenze dolore e angosce ma con un corpo glorioso con un corpo nuovo incorruttibile col quale noi potremmo contemplare la gloria di dio e quindi alla morte della croce che apparentemente sembra essere la sconfitta del bene rispetto al male la vittoria del peccato rispetto alla santità rappresenta esattamente il contrario e se la dimostrazione più evidente di come il potere di satana sia qualcosa di effimero qualcosa che è stato già sconfitto perché come dice la scrittura in un altro passo il signore ha fatto pubblico spettacolo di tutte le potenze delle tenebre trionfando su di esse tant'è che la morte dice paolo al capitolo 15 verso 54 della prima corinzi è stata sommersa nella vittoria e grazie a dio per questa speranza perché sappiamo che è vero che tutti dobbiamo passare per la morte ma sappiamo anche che se abbiamo fede nel signore noi un giorno risusciteremo e mi permetto di correggermi da solo non è vero che tutti passeremo per la morte perché la scrittura insegna che coloro che saranno viventi al momento in cui cristo tornerà saranno trasformati in un batter d'occhio e subito dopo la risurrezione dei morti incontreranno il signore nell'aria ancora più gloriosa sarà questa esperienza e che il signore ci aiuti semplicemente a confidare nella sua parola e a credere in quello che è scritto nella sua parola affinché possiamo uno sperimentare la salvezza per mezzo della fede in cristo gesù che ci lava e purifica dei nostri peccati e due la risurrezione che ci permetterà di poter un giorno regnare col signore prima per mille anni come insegnano le scritture leggasi a bocalisse capitolo 20 e poi vivere con lui per l'eternità nei nuovi cieli nella nuova terra che il signore prepara e in particolare nella gerusalemme celeste che giovanni dice sempre nell'apocalisse di vedere scendere dal cielo sulla nuova terra perciò come giobbe vogliamo veramente dire con tutto il cuore io so che il mio redentore vive è vero l'avevano messo in una tomba ma è risorto e vivente e alla fine egli si alzerà sulla polvere quando dopo la mia pelle sarà distrutto questo corpo vedrò senza la mia carne dio e lo vedrò favorevole lo contempleranno i miei occhi e il mio cuore si consuma dal desiderio di vedere quel giorno sì fratelli per il credente la vita non è qualcosa che si consuma esaurisce su questa terra ma è qualcosa che vive per l'eternità e proprio per questo il credente vive in vista di quel giorno in vista dell'eternità e non si lascia coinvolgere dalla corruzione di questo mondo ma con l'aiuto di dio vive santamente cioè separato dal peccato perché il suo desiderio è quello di piacere a dio ed è quello di vivere una vita che sia da dio approvata e considerata giusta andiamo avanti quindi con l'aiuto del signore non guardando agli insegnamenti di questo mondo ma guardando all'insegnamento che cristo ci ha dato attraverso le sacre scritture non ce ne pentiremo e avremo la certezza così di poter un giorno incontrare dio e vivere con lui per l'eternità che la pace la grazia e l'amore e la presenza di dio ci accompagnino ancora oggi dio ci benedica insieme pace del signore a tutti quanti voi